buonasera ragazzi buonasera a tutti andiamo avanti un po' con polis e contrabando oggi ragazzi che cazzo c'è in frontiera oggi va andiamo a divertire un pochettino il gioco ci mette sempre le mille ore a caricare sempre le mille miglia proprio sembra che dobbiamo fare le scampagnate per caricare sto gioco l'altra volta abbiamo fatto un po' di casini però vabbè non so dettagli ma vediamo un po' di poter fare qualcosa oggi per non fare casini vabbè l'altra volta non abbiamo fatto i casini però il gioco ogni tanto è stupido purtroppo ci fa fare cose che poi non è va bene allora lavoro per tutti che ci sta aspetta ragazzi che mi sta dando un po' di lag non capisco perché ciao alvin pc da gaming assemblato da me lavoro per tutti allora per tutte le morate del gioco di lavoro è stato introdotto a seguito una decisione del partito ogni cittadino verrà assegnato un'occupazione che gli considera di vivere con dignità e prosperità allo stesso tempo a causa della mancanza di domande per alcuni professori viene istituita una lista delle professioni inutili che regola il livello di occupazione alcuni settori dell'economia il governo crea nuovi posti di lavoro quindi diciamo che questo è quello che dobbiamo fare oggi quindi vediamo se non abbiamo anche delle novità qui in bacheca oi quanta roba abbiamo qua lista di occupazioni inutili la nuova legge sull'obbligo del lavoro introduce norme sull'ingresso nel paese ecco leggiamo bene ogni straniero che si reca al lavoro che deve essere in possesso di un certificato di assunzione valido inoltre l'ingresso è vietato alle persone che svolgono i seguenti professioni artista, insegnante e giornalista quindi questi non possono entrare ma vediamo se il gioco effettivamente fa poi abbiamo ispezione tecnica nell'ambito di indagini del traffico di frontiera condotto dall'ufficio centrale di statistiche le agende della guardia frontiera sono tutte tenuti a controllare le condizioni per questo avvomisto del consulio del veicolo e qui abbiamo tre sinensi di contrabandieri eh ragazzi abbiamo tante tante cose oggi andiamo avanti avanti il prossimo avanti il prossimo eh abbiamo tanto come abbiamo più andiamo avanti ovviamente più si fa si fa interessante la cosa salve belle basette salve mi dà argomenti allora controlliamo un attimo allora visto l'ingresso è attestato di lavoro quindi vedi abbiamo due cose nuove adesso da fare allora quindi c'è il carico Murat Bayard Murat Bayard è tipo non ricorrisponde va bene quindi già siamo vediamo se corrisponde a meno questo non corrisponde quindi visto l'ingresso questo proprio allora numero passaporto sbagliato eh lettera di vettura eh ah danno del veicolo vedi possiamo mettere anche eh eh regola di regole d'ingresso posto qua ragazzi oggi si fa interessante la cosa e vabbè vuol dire che dobbiamo più stare attenti nel curare allora lavoro eh vediamo se corrisponde 41 anni va bene allora taglia legna quindi il testato del lavoro è valido però c'è il visto d'ingresso scaduto e c'è la carta d'imbarco non a nome suo quindi vediamo un attimo cosa porti al veicolo allora mettiamoci questa una due tre balle porta eh un attimo devo controllare il carico giovane ragazzo eh ok controlliamo bene il suo carico eh la torcia vediamo se c'è qualcosa segnato controlliamo tutto va bene giovane dove stai oh però sembra fumasta con il suo vai metti il carico a bordo forza allora condizione del veicolo dobbiamo dire anche la condizione del veicolo giovane posso controllare dentro grazie eh madre madre allora controlliamo un attimo il carico vabbè non mi sembra molto molto danneggiato ciao Leonardo ciao allora le gomme sono in perfetto stato controlliamo anche le gomme scusi si sposti un attimo ora dobbiamo controllare tutto ok il controllo è molto più curato quindi ok puoi risalire un attimo in auto giovane torni nel veicolo un attimo allora quindi la carta quindi il carico è confermato è sbagliato il carico è confermato quindi c'ha 4 e 2 quindi ci siamo il carico è confermato e quindi il visto però lui regola di ispezione c'ha data di scadenza lettura di veicolo non è valida del nome va parlo e il veicolo comunque non ha nessun danno quindi va bene va bene però la devo la devo rifiutare giovane c'è il passaporto scaduto e la carta non è a nome suo è inutile vada vada avremmo fatto bene non lo so qua ci sono a mettere troppe cose insieme ultimamente siamo un po' rincoglionendo l'altro abbiamo fatto bene signori avanti il prossimo forza forza si certo è un altro gioco pure a cta come no prego prego porti due cassi di birra allora controlliamo un attimo si ciao caro un attimo scusi ho aperto per spazio il sportello perdono posso avere sui documenti è necessario non lo so vuole passare così vada 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 allora sta scrivendo un articolo quindi questo è giornalista quindi già non dobbiamo farlo entrare allora vediamo un po' se abbiamo qualcosa numero di targa i vediamo un po' se corrisponde no controlliamo se è un contrabandiere vigolo giallo età autista quindi stiamo un attimo controllando un po' quindi se è un giornalista non dobbiamo farlo entrare quindi vabbè controlliamo i suoi documenti giornalista non può entrare quindi lo dobbiamo scartare a prescindere vediamo un po' se il visto di ingresso è valido corrisponde lavoro il nome corrisponde anche il numero di matricola e corrisponde anche la carta di imbarco però regola di ingresso no perché non può entrare quindi allora controllo un attimo cosa porta dietro giovane un attimo un attimo un attimo ok controlliamo un attimo se c'è qualche segno particolare con la qualche segno che non so qualcosa che potremmo riconoscere non lo so va bene giovane mettilo oh eh rimetti rimetti il posto le botte al signore allora controlliamo il veicolo se c'ha qualcosa da segnalare controlliamo un attimo il cofano pure un attimo ma il veicolo è in perfette condizioni comunque vedo non è che vedo molto prego posso un attimo va bene signora lei comunque non può entrare perché è giornalista comunque prego torni al veicolo dobbiamo bocciarlo non ha non ha regole d'ingresso mi dispiace quindi le ridò i documenti rifiuta arrivederci stai commettendo un errore io che ti devo dire giovane ragazzo eh devo rifiutare i giornalisti che devo fare eh non posso fargli entrare va prego prego eh avanti il prossimo signori prego prego che qua dobbiamo smucchiarla vieni 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 prego 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 andiamo tu non madonna tu non entri con questo catorcio mamma mia sta macchina è un po' la carrozzeria è andata a farsi benedire vero salve mi dai documenti cos'è che partito voglio aiutare i giovani a trovare lavoro oggi mio figlio ha ricevuto un carico per lavorare nel cantiere non me ne frega un cazzo però comunque va bene aspetta 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 forza targa corrisponde io 1 1 0 attenzione corrisponde la targa attenzione e potrebbe essere un contrabbandiere quindi occhio 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 valenti popovic valido viva quanti anni ha 32 però attenzione ragazzi attenzione potrebbe essere un contrabbandiere quindi dobbiamo controllare tutta l'auto signore deve scendere un attimo eee ho trovato questa cosa aaa e adesso ti spacco la macchina ho trovato gli alcolici eee eee che facciamo che facciamo che facciamo dai scendi da sto veicolo muoviti esci da sto veicolo muoviti contrabbandiere eee si ragazzi contrabbandiere venga esca esca fuori ma che mi si è dalla mazzetta mi si è corrompe esci fuori scendi dal veicolo la dichiaro in arresto per contrabbando di alcolici eh scusa mi sta mi sta mi sta mi sta mi sta da poi dobbiamo portare puristi criminali in prigione buona permanenza allora abbiamo un inventario pure pieno porca miseria vabbè ci vedevamo dobbiamo andare a scaricare pure un po' di roba mi sa che dobbiamo fare va bene allora finiamo la perlustrazione ok giovane togli sta macchina va pulisci la zona guarda che abbiamo beccato un contrabbandiere proprio tac ok avanti il prossimo signori avanti il prossimo avanti il prossimo dai l'ultimo di giornata l'ultimo di giornata prego prego ah no c'è anche un altro uno l'ho visto dietro salve allora c'era un'altra cosa ah veicolo giallo quindi potrebbe essere quello là salve aspetta che lo devo prendere ok allora taglialegna ok taglialegna può entrare vediamo se è valido vediamo se corrisponde anche il nome a lui eh non corrisponde però ieri Yuri eh no eh non c'ha non c'ha regola di ingresso mi dispiace nome e cognome sbagliato è valido 29 anni vabbè non porti niente vero posso controllare un attimo se porta qualcosa non c'ha niente vero signore non porta niente vero posso entrare un attimo sopra il veicolo si un attimo un attimo voglio controllare se lei porta qualcosa ma vabbè pare che non ci sia niente però non non può entrare comunque c'ha c'ha non è regola vende c'ha nome e cognome non valido regola di ingresso non valido numero del passaporto è valido mi sa si vieni ok allora non può che è successo vabbè signore salga sul mezzo ottimo volendo si potrebbe pure farlo passare però non lo so c'ha la carta di non ho visto l'ingresso non è suo signore la devo rifiutare mi dispiace le dito i documenti oggi stiamo bocciando tutti stiamo bocciando tutti eh mi dispiace prego prego dai che c'è un altro cliente lì dai dai oh raga oggi proprio stiamo bocciando tutti prego prego vada vada occhio oh si è messo il collega collega però pure lei ci dà una mossa prego andiamo l'ultimo di giornata signori questo veicolo giallo attenzione che ci è stato segnalato salve potrebbe essere questo giusto veicolo giallo età 50 quindi potrebbe essere anche due che non botta sola si un attimo Farid Cara Farid Cara quindi corrisponde il nome controlliamo un attimo valido vediamo quantità c'ha 31 anni va bene controlliamo il mezzo signori controllo il mezzo un attimo visto che c'è stato segnalato controllo eh ma pare che questo non c'ha niente signori salga un attimo sul veicolo ma pare che pare che sta messa che non c'ha niente questa macchina però c'ha un fanale rotto c'ha un fanale rotto e dobbiamo segnalarlo ciao Mirko tutto a posto vabbè c'ha un fanale rotto quindi lo dobbiamo fanali funzionanti 1 poi cosa c'ha rotto eh c'ha pure il vetro rotto vero eh c'ha un po' di macchina c'ha un po' rotto rotto finessini rotti 2 1 no 2 sono 2 sì perché pure quello là va bene per me può andare può essere pure che abbia fatto una cazzata ma il vicolo giallo è questo ma non vedo niente della macchina gomme bruciate bucate no specchietti mancanti c'ha tutti specchietti no ne manca quindi specchietti mancanti 1 paraurti mancanti no perfette condizioni insomma per forza di un po' la carrozzeria è una merda però carrozzeria danneggiata un pochettino va bene per me signore non lo so per me può andare però non vorrei che facciamo una cazzata con que veicolo giallo vernici di un solo colore dopo aver smantato una delle tane dei gara giallo vabbè raga è giallo però non penso sia cioè non ho trovato niente con la con la lampada a voi quindi ma proviamo il primo approvato della giornata ciao Stefano ciao caro andiamo un po' il primo approvato della giornata abbia sbagliato? sicuro no abbiamo fatto giusto invece oggi non abbiamo sbagliato niente questo servizio vabbè io me ne vado a dormire però aspetta prima di andare a dormire qua nel gioco voglio vedere se possiamo investire qualche soldo per mettere qualche altra guardia in più lo si faceva dal computer mi sa vero? potevamo potenziare la nostra nostra cosa qua allora la route mi piacerebbe aggiornarla però che facciamo invece di aggiornare io vorrei cambiare anche che mette la macchina della polizia ma ci costa un pochettino voglio mettere qualche soldato in più qualche forse polizia in più perché l'altra volta ne abbiamo dovuto ma mettiamo un altro un altro un altro collega allora portiamo questi criminali vieni vieni portiamo questi criminali trasfisci l'auto della polizia trasfisci l'auto di polizia vieni vieni e portiamo anche tutta la roba che abbiamo confiscato là perché dobbiamo portiamoli in prigione ci liberiamo un po' se no che cosa è ragazzi andiamo 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 prego 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 qui di sta porta ma guarda collega porto un attimo questi criminali in galera sì sì salve salve allora mettiamo allora tranne questo ovviamente tranne questo ovviamente tranne questo ovviamente ok a meno mettiamo tutta roba a confiscare il magazzino è pieno salve ok allora fatemi mettere un attimo la mappa allora la prigione c'è non di polizia tutto dritto ok ciao stefano almeno portiamo svuotiamo anche il magazzino perché è un macello se no tanto questi parlano dietro la vita oh non ce la porca troia ci stanno sparando come se non ci fosse un domani non c'è capito è qua perché prima abbiamo fatto prima una volta una missione abbiamo fatto una missione che praticamente ho dei contrabandieri quindi come ci vedono ci trivellano abbiamo un po' rischiato ovviamente grazie devo lasciarsi i criminali e tu li lascio a lei a chi li lascia dove sta il collega scusi collega ok ma dove li metto i criminali che è da lei scusi scusi collega no lei no scusi come faccio dove li metto questi questi criminali scusami ah no questi devo portare alla prigione devo portare è vero non è qua alla prigione quindi dobbiamo fare ancora più stra occhio collega perdonami non l'ho visto non l'ho visto quindi dobbiamo portarli alla prigione che sta al campo di lavoro dove tornare tutti indietro al campo di lavoro dobbiamo portarli porca miseria vero me l'ho scordato quindi tutti indietro dobbiamo tornare ma ci sparano un'altra volta fatto che non possiamo manco rispondere al fuoco a me ne abbiamo liberato pure un po' il magazzino ora ci sparano ancora ah no ci abbiamo fatto a scappare aspetta fammi vedere una cosa devo girare qua ok andiamo andiamo fate spazio fate spazio e porto i criminali porto il tuo cazzo dove andiamo dritto oh oh si è cappottato questo piano questo scatoletto come va c'è la puttana poi vediamo il motel vediamo vediamo vabbè possiamo spegnere la sirena tanto è inutile diamo meno nell'occhio allora giusto si quindi dobbiamo andare di qua è un po' lunghetta per la strada per andare al campo di lavoro a considerarsi criminali costiamo costiamo anche una polizia prego prego scappi giusto siamo quasi arrivati il cartello non l'ho visto perdonate costo giornaliero eccolo quel campo di lavoro grazie mi aprite un po' una strada un po' un po' particolare questa a chi li consegno a lei ti consegno a lei salve collega ok tutti i prigionieri andati a posto ok a posto così lavoreranno sti schiavi ok raga possiamo tornare al nostro al nostro bella zona sicura diciamo così e qua al di fuori è pericoloso guarda come sta barricato qua va vabbè è una prigione la fine si sta a fa giorno si sta a fa ma noi lavoriamo sempre qua vecchie rovine vecchie rovine dopo prima quello si è cappottato mamma mia mamma mia mamma mia è giusto? si siamo quasi arrivati boom scusa giovane stavo a vedere la mappa perdonami una frisella l'abbiamo data ok raga scusate ho messo un attimo per vedere che cosa è successa ok non ci sono notizie nuove quindi sempre così e non abbiamo niente di aggiornamento ok andiamo avanti dai macchina gialla attenzione vai avanti il prossimo prego prego iniziamo la giornata qua no non è gialla salve cosa porta le valigie che cazzo porta che è il cocome grazie bagagli tre bagagli e un quattro sapone giornalista non può entrare mi dispiace non può entrare non può entrare mi dispiace ti devo bocciare già per scindere capo giornalista non posso farla entrare mi dispiace arrivederci mi dispiace caro ma che devo fare non le faccio io le leggi non possiamo far entrare i giornalisti mi dispiace quindi vai marcia indietro forza quello che cazzo ha fatto quel camion prego avanti avanti o c'è una ruota bucata sicuro si c'è una ruota bucata avanti e dietro che cazzo va in giro quelle bucate va in giro eh tu mi puzzi tu 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 non lo so vabbè è un vestino rotto dai dammi documenti su ragazzi puzza un maiale porta ok quindi eh aman dashan ok vediamo se è valido controlliamo meno la validità delle cose eh valido aman dashan corrisponde anche la valide dell'ingresso l'età 39 anni ok quindi c'ha due ruote bucate mettiamo ruote bucate due un finestrino rotto per il momento e vediamo il carico diamo un carico un maiale quanto cazzo è grosso sto maiale ok corrisponde questo mi puzza eh infatti questo non mi convince infatti controlliamo perché questo si si scende per favore move pure perché lo controlla move dai yam 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 allora no vabbè sembrava all'inizio però tutti in regola tutti in regola va bene va bene c'è anche un fanale rotto dobbiamo segnalarlo va bene signori salga risalga risalga che c'è messa su vai risalga salga move 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 mi rompete le azioni un attimo sto finendo a fare ispezione c'è un fanale rotto funzionante uno i specchietti ce l'ha tutti carrozzeria in buono stato vabbè per me puoi passare giovane ragazzo vabbè a fine corrisponde non c'è nessuna per me puoi passare approvata arrivederci stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi stai buco altre 4 gomme non ti faccio entrare prego avanti il prossimo piccolo giallo attenzione no non è tanto giallo verdino merda verdino diarrea oh oh ma guarda questo sta scappando andiamo 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 salga collega andiamo ma guarda questo che mi scappa voglio sparo dalle gomme niente sta fuori furbi questo dove scappa a me madonna c'ho pure il manganello c'ho tenendo totalmente tante vieni 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 poi questo cazzo di catorcio dove cazzo vogliamo andare in corolla la gente si vabbè che pure lui guarda cazzo a olio va la macchina a olio sta bruciando l'olio si fermi giovane però un paio un paio di trivellate io ho dato volevo colpire le gomme non so se io ho colpito la gomma ehi polizia comunque questo è il contrabbandiere sa scappare il giallo e lui che facciamo ti faccio schiantare che devi fare si fermi si fermi scenda scenda muoviti scendi dal veicolo muoviti muoviti vai vai un attimo un attimo macello qua l'abbiamo messo qua sto criminale torna al lavoro un attimo allora dove lo dobbiamo portare ci sono visitatori si ho capito ma io devo portare sto criminale in prigione dove cazzo stiamo sono pure perso cazzo stiamo la matosca quanta strada ci ha fatto fare ok raga questo ora dobbiamo portare dobbiamo pure fare veloce dobbiamo portarlo e poi tornare al varco da quello l'abbiamo preso quindi diciamo che questo era l'ultimo contrabandiere il penultimo contrabandiere segnato nella lista oh non c'è la puttana troga via 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 porca trota mi hanno quasi sono quasi morto i contrabandieri come sparano come sparano come trivellano allora devo andare di qua guarda come sparano ci hanno distrutto la macchina ci hanno distrutto ma cazzo devo andare di qua mi sa se purtroppo i contrabandieri ce l'hanno con noi da quando gli abbiamo fatto il culetto gli abbiamo fatto male tanto tanto male e buonasera raffaele buonasera gli abbiamo fatto talmente male l'altra volta che non ci possono vedere no tranquillo tranquillo ok dai dai che dobbiamo porta questo qua poi dobbiamo tornare di là macello non so se ce la facciamo tutto ok tutto ok dai 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 veloce 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 ecco ecco siamo arrivati aprite 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 lato sai com'è via 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 veloce veloce dai 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 dobbiamo tornare subito là sono questi ci da andiamo andiamo guarda qua c'è un trivella tutto è veloce veloce perché sennò ci dà una fallita la missione poi ti dai il tempo contato ti fai mille chilometri con sto cazzo di catorce grazie prime oh madonna andiamo 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 spostarsi mai distrarsi alla guida sì prima ha dato una craniata contro uno disintegrato ma ora ci stanno questi cazzi contrabbandieri che ci sparano a destra a sinistra dai veloce tre minuti non so se ce la facciamo in tre minuti ma io poi lancio il furgone giusto giusto poi lancio il furgone dobbiamo tornare subito l'impostazione dai 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 eh fatto bene Raffaele ma dove fa sono le 5 di mattina e sono dormito dai non arriviamo più porca miseria ce l'abbiamo fatto qua la sbarra l'hanno buttata giù qual è che io te lo lascio così il furgone vedi da tu parcheggiolo tu vai vai io do un'impostazione qua sì ce l'abbiamo fatta signori andiamo mando il prossimo vediamo che fa il furbo a scappare un'altra volta talve allora quindi ci rimane l'ultimo trabandiere cinquantenne in età cinquantenne ok un attimo giovane mi fai un attimo ho fatto i chilometri buon sangue non mente allora insegnante mi sa l'insegnante non poteva passare non puoi passare giovane quindi ti devo rifiutare senza neanche controllarti i documenti però devo fare così non hai vediamo se c'è qualcosa di rotto te lo segnalo ma no per il resto puoi andare puoi andare giovane bocciato mi dispiace rifiutato insegnante non puoi entrare nel paese ma che cazzo ha avuto da me giovane che c'è qualche problema ti spacco sta macchina di merda dovevo rompere sta macchina di merda andiamo io c'ho delle regole da rispettare che cazzo vuoi da me vai avanti il prossimo questa zappara urte ce la vediamo dall'inizio poi mi metto col manganello vediamo un po' che succede ciao giovane giovane il game si chiama police contraband si si dai vi dai documenti si si ma tu ok allora tre bagagli due sapone ok controlliamo il valido è valido controlliamo i documenti qui è valido il nome qui è valido 31 anni il nome è qui ma signore lei è tutto preciso precisetto ma io devo controllare i suoi documenti i suoi cosi ma li devo aprire però non so se posso scusi posso un attimo grazie molto gentile quindi due saponi e un bagaglio perché me ne segna che c'è una tre di bagagli perché me ne segna che c'è una tre di bagagli signore può scendere il veicolo fuori un attimo controllare giovane dai forza si sposti dai coglioni grazie guarda che prendo il manganello non ti conviene stai zitto stai zitto stai zitto mi fai il mio lavoro allora sapone sapone controlliamo raggi uv se c'è qualcosa allora no io voglio controllare questi bagagli oh senti giovane so fare il mio lavoro basta allora cosa porti qua possiamo aprire questa cosa ma vabbè però tre bagagli mi segni sai com'è questo non mi posso aprire queste scatolette collega non ne possiamo aprire queste scatolette c'è c'è una voglia di vivere però dai si duro è duro metti dentro va anteriore c'è il baule Dani si lo so lo so sono atti a vedere perché vorrei ah infatti eccoli qua quindi ok ok ma voglio controllare anche questi un attimo giovane ragazzo quindi cosa porti cazzo tutto uguale quando cazzo i scarpe ti porti vabbè giovane dai rimettili dentro dai dai posso va a rendere affettuazione nel 90 ok allora giovane tu bagaglielli il carico è confermato quindi 3 e 2 perfetto perfetto quindi il carico è confermato ma per me puoi per me puoi andare giovane risali in auto faccio un'ultima ispezione proprio con le raggi uv però ti devo segnare che ci mancano i due paraurti c'hai tutti i due i fanali rotti devo un attimo fare un piccolo verbalino e poi puoi andare allora c'ha finestrini rotti zero fanali funzionanti manco due paraurti mancanti due carezzia danneggiata vabbè puoi andare giovane sì così si chiama il nome del pia si chiama contraband police hola e verci abbiamo fatto male attenzione signori ingresso non valido perché cosa aveva scusa cosa aveva che non che non andava scusami come documenti non conformi ma è stupido sto gioco è stupido scusami cioè era tutto a posto tutto perché mi senti che non era vabbè ogni tanto sto gioco se ne esce con certe perle vabbè dai abbiamo finito per oggi allora vediamo un po' se possiamo rafforzare un po' vediamo un po' stai zitto allora vediamo un po' qua il magazzino quanta roba ci avevamo ancora vabbè qua le celle sono vuote ho fatto cagare sotto giovane cioè questo è bello spaparacchiato qua allora vediamo se possiamo aggiornare qualcosa ragazzi un po' tipo un po' di io vorrei la macchia della polizia ma costa ancora 1200 ci siamo quasi ci siamo quasi questo vuole questo che è tanta roba 1700 37 sono cuciti in merda la dobbiamo togliere l'abbiamo rafforzata un po' vorrei anche aggiornare la nostra roulotte che ci dà un po' di percezione in più qualche punto di percezione in più ci servirebbe però non voglio spendere 600 mo' spendere 600 dollari mo' è un po' poi dobbiamo aggiornare anche il magazzino capacità anche del carcere quindi un po' di cosette dobbiamo fare secondo me chiamo un rifornimento no un rifornimento non ci serve quindi va bene va bene vabbè possiamo passare la giornata successiva collega che dici abbiamo lavorato abbastanza no giornale che ci sta qualcosa sembra la solita notizia ok va bene va bene va bene va bene mi la dacco di cava ciao dai ragazzi mancano 100 dollari passa la paura ci possiamo comprare la macchina della polizia eh cazzo compriamo la macchina della polizia o no ah no ci hanno scalato i soldi bastardi vediamo se abbiamo il giornale qua oh cazzo le notizie fresche non escono il giorno qua vabbè abbiamo manco un cazzo di nessuno perfetto proprio oggi è giornata proprio ideale per lavorare allora abbiamo sempre sta segnalazione di contrabbando di stetà 50 anni eh quindi oh prego prego c'è un giovane ragazzo che vuole passare avanti giovane giovane già col cappello da nonno ecco lui è il contrabbandiere lui c'ha 50 anni lui c'ha 50 anni salve giovane buongiorno 25 anni 25 anni c'hai ma 25 anni scusami artista non può entrare dobbiamo bocciarli allora non c'ha eh dobbiamo bocciarlo purtroppo la macchina oddio sto in perfette condizioni allora cosa portavi scusami 2 di cemento e 3 bagagli quindi cemento e 3 bagagli ok però non puoi passare perché ti devo bocciare il visto d'ingresso vabbè niente ti devo bocciare caro è inutile che siamo a perdere un po' di tempo vai via via forza 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 esca è scommettendo un errore io ti manganello ti spaccola oh dio aspetta scusi non ti ho chiuso lo sportello aspetta aspetta ok perché prime sto dicendo andiamo vai manda il prossimo salve mi dai documenti o no che stiamo a fare ci siamo a guardare in faccia che dobbiamo fare siamo allora 27 anni ok vediamo un po' se corrispondi tutto che ci hai visto in questo cioè artista non puoi entra ti devo bocciare caro purtroppo senza che siamo a molta perde tempo il carico che porti due pollo sapone bagagli due pollo sapone bagagli caro ma ti devo bocciare perché sei un artista e non puoi entrare quindi senza che perdiamo tempo siamo contro ban police allora scendi scendi mi ti mangio le galline te le mangio oh avanti sta a fare svelto quello sta a fare capito allora la cosa perché non possono entrare perché c'è un nuovo decreto del nostro paese qui nel gioco dice che la legge dell'obbligo del lavoro introduce norme di ingresso nel paese ogni straniero che si reca al lavoro deve essere in possesso di un certificato di assunzione valido valido inoltre l'ingresso è vietato le persone che svolgono le seguenti professioni artista insegnante giornalista non lo so il perché quindi noi dobbiamo tenerci quello che dice il governo che fa i documenti me li devo dare grazie va più alti no ciao ernesto ciao adriano il gioco si chiama contraband police che cazzo vuole qui su vuole passare in fretta ah tu sei il contrabandiere sei eh si tu sei il contrabandiere questo è il contrabandiere ragazzi è lui quindi non dobbiamo farlo passare anzi lo dobbiamo arrestare scenda giovane scende il veicolo controlliamo un attimo sto mezzo allora questo sicuramente nasconderà qualcosa strano strano allora lui dovrebbe essere l'ultimo contrabandiere però io non vedo nessun però dobbiamo arrestarlo perché è lui cioè sicuramente lui allora risalga sul veicolo un attimo posto fotografia lettera di vettura non rispetto a regole d'ingresso scenda 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 che è l'arresto perché scusa il contrabandiere era uno dei nostri informatori interno un carico di contrabbando età e autista 50 però non lo so lui c'è una c'è una 58 però io non vedo nessun segno di contrabbando qua nel suo mezzo non so se lo vado a rifiutare è possibile che ci dà ci dà sbagliato se lo arrestiamo può essere che ci dà sbagliato quindi diciamo che ragazzi io non lo faccio passare amen allora luce uno finestrino funzionano tutti vabbè signore vada al veicolo ragazzi non lo faccio passare vediamo che succede mi puzza mi puzza tanto vabbè facciamo così signore io la boccio perché comunque non c'ha tutti i requisiti comunque quindi lo vado a bocciare potrebbe essere lui l'ultimo contrabandiere però mi dispiace caro andrà a vattene pure dai forza contrabbando età 50 però lui ceva 58 e abbiamo fatto giusto ragazzi vai il prossimo questo porto un caricone enorme pronto pronto dai forza forza madonna in mezzo un po' tutto allora c'è una gomma a terra ma perché è andata in giro con le gomme a terra c'è la ruota di scorta scusi si si comandante allora attento chi è lei che vuole eh che vuole questo governo mi hanno insegnato mi dispiace allora controlliamo si età 41 è valido corrisponde non impossibile confrontare carta del cittadino allora vabbè controlliamo un attimo il carico prima e poi vediamo un attimo di fare tutte il gioco si chiama contraband police abbiamo un po' di ghiaia qui quando vedo fatto che non possiamo manco controllarla vero sai che caccia ci può stare dentro sta ghiaia eh la ghiaia è un po' difficile da individuare se c'è qualcosa all'interno allora c'ha un fanale rotto quindi dobbiamo mettere fanale rotto 1 gomme bucate 1 per il momento caratteria danneggiata non ne vedo e avanti c'è tutto a posto no altro fanale rotto specchietti c'è tutte e due vabbè entra poi entra non c'è niente di illegale però vediamo un attimo se c'è qualcosa qui dentro se c'hai qualcosa da nascondere ma andiamo un po' dentro il cofano avanti e secondo me può passare questo dai gomma anteriore sì sì allora non vedo niente manco qua quindi va bene vabbè puoi passare dai allora gomma a terra questa lo giovane puoi salire un attimo nel mezzo nel frattempo perché c'aveva la gomma anteriore pure no le gomme è solo una solo una però pure qua manca un pezzo di carrozzeria quindi pure carrozzeria c'è danneggiata vedete ci manca un pezzo qui perché ci manca sto pezzo qua sto curioso io mi rivede vabbò allora controlliamo tutto in regola solo la ghiaia comunque corrisponde il carico corrisponde quindi va bene signore io la faccio passare per me è in regola fa prima a buttarlo infatti sì sta macchina fa prima a buttarlo arrivederci arrivederci mi raccomando buona permanenza scarichi la ghiaia e carichi cioè vado a cambiare gomma io non so mangiare le gomme bucate perfetto avanti il prossimo beh ma questa è che le raffaia questi vanno come cazzi va alvec porta questo attenzione buonasera ma scusi ma lei non è quelli prima ha cambiato il mezzo mi sta fregare attenzione 50 anni attenzione quindi controlliamo subito il carico che c'ha potrebbe essere il contrabandiere quindi eh stai zitto allora controlliamo se ah 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 attenzione abbiamo trovato un marchio sospetto attenzione abbiamo trovato ah 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 allora quindi segniamo uno due e tre ok quindi abbiamo l'ordine di aprire quando vediamo se cose allora che c'ho per aprire il forcone usiamo il forcone proiettili granate e tu la rabbia ha fatto bingo armi signori armi allora no scusi collega sto pizzicando al culo perdoni allora rimetta un po' sul carico un po' sul carico un po' sul carico un po' bravo signore la dichiaro in arresto per contrampando di armi scendo al veicolo sentimi guarda così capito hai capito un noccio si giri forza cura vi ho dato le armi venga venga criminale collega collega mi raccomando ci pensa lei accendi spendi 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 allora chiudi dentro possiamo la roba le armi possiamo questo possiamo questo oggi ci possiamo posare pure come volendo è che c'è questa roba addosso ok vai posto ragazzi guarda il contrapanto di armi assomiglia al questore con lei però io a me non devo dire ogni cosa io a moved dai ok quindi oggi abbiamo finito allora facciamo una cosa allora ragazzi come una macchina polizia che cazzo andiamo andiamo così almeno aggiorniamo anche la macchina della polizia vai fate fate c'è arrivato c'è arrivata la macchina e mo e mo ragazzi la devo provare dove sta dove sta la macchina la polizia ma ancora sto cazzo di catorce abbiamo dove ho messo la macchina la polizia ah forse deve arrivare dobbiamo no con tastiera con il pad non so non so mai giocato a questo gioco con mouse e tastiera comunque ti ci trovi bene vabbè raga ma andiamo avanti tanto non possiamo fare nient'altro abbiamo pochi soldi non possiamo fare niente quindi andiamoci a dormire vediamo se ci mandano la macchina che abbiamo comprato che è successo che è successo arrivi di contrabbandieri porca miseria non da cazzo ce ne stanno c'è la miseriaccia oh quella è la mia rullotta non ho toccato la mia rullotta si vabbè qua c'è a nimitra madonna come ho fatto esplodere che bordello ci su un altro ci su un altro dai dai avanziamo avanziamo porca puttana questo gioco le granate lancia no cazzo siamo accaduti qua cazzo che cazzo ce ne stanno oh sparate a sti cazzo li tizi ma sembra io devo sparare lascia la miseria via via c'è la polizia via via c'è la polizia ma sembra me mi sparano questo cazzo ho fido pure i proiettili non c'è manco più proiettili con le spara porca trota cazzo non c'è più non c'è più proiettili abbiamo i proiettili qua ma vado ma sembra di manganello cazzo cazzo non c'è più proiettili ragazzi provo ragazzi provo ma che cazzo spari ma che no sono con manganello stavandà no dai mi hai tolto soddisfazione e comunque non c'è più i proiettili questo è un problema dai stavandà col manganello stavandà mi hai tolto soddisfazione ok quindi vediamo un po' allora faccio un po' di rifornimento dai anche di proiettili non c'abbiamo più niente scusi mi mandi un fornimento di proiettili è arrivato? ho messo qua? ah no da cazzo hanno messo il carico qua? cioè scusami un attimo no io ho pagato 200 dodi di fornimento dove hanno messo scusami io non c'ho più i proiettili qua no questi non mi servono vabbè penso arriveranno dai arriveranno il giorno successivo ah wow guarda ma questo che veicolo è qua aspetta devo andare al veicolo ma c'è ma vado questi chi so salve tu chi cazzo sei? ah ciao volatemi dammi un po' di caricatori ah c'è pure un no no vabbè dammi per il momento sono le munizioni pistola quanto costa il fucile? 700 vabbè vabbè ciao ciao ok vabbè collega ha sparato lei dai prendimi un'altra macchina oh ragazzi oh troppo bella sta macchina ok ok la storia con questo non possiamo portare non possiamo portare i prigionieri tu che puoi fare un po' ah ripara ok perfetto ti hai detto i mezzi ok ma questa produzione è proprio totale vabbè abbiamo comprato i munizioni quindi sappiamo che arriverà il giovane con il veicolo ok va bene va bene questa cosa non lo sapevo perché è la prima volta che compravo armi vabbè passiamo al gioco successivo va è che succede qualcosa che ci portano le bombe ah tanti arresti però ci sta ci sta cazzoliamo di più della vita tanti arresti dobbiamo trovare tante armi grandi pulizie attenzione attenzione ci sono i giochi olimpici quindi vediamo cosa ci dirà la lettera il crollo delle miniere almeno 5 minatori sono rimasti uccisi quando una galleria sotterranea alla miniera di carbone nugget è crollata in mattinata le squadre di soccorso stanno cercando di estrarre 12 persone sepolte in oltre più di 1000 residenti dei villaggi circostanti sono accorsi in aiuto dei feriti al momento non si conoscono le cause esattamente della tragedia quindi questo il giornale dice grandi pulizie in tutto il paese sono in corso preparati per il tanto atteso giochi olimpici per migliorare l'immagine del nostro paese quindi attenzione il partito sta introducendo l'obbligo di servizio comunitario in base a quale ogni cittadino è tenuto a svolgere 10 ore di servizio comunitario a settimana che questo periodo intenso sia una testimonianza delle forze dello spirito della nostra nazione i giochi olimpici stanno arrivando secondo la decisione del ministero del lavoro le restrizioni di occupazione sono temporaneamente sospese la bozza della lista delle occupazioni inutili torneranno in parlamento per i necessari emendamenti quindi praticamente arrivano i giochi olimpici e hanno praticamente oh intanto grazie Francesco per una rosa grazie mille e ci sono nuove cose ovviamente nuove nuovi decreti e mandati dal nostro paese allora quindi vediamo sono state introdotte nuove linee guida per attraversamento del confine del paese l'ingresso è vietato ai veicoli con più di tre non conformità tecniche quindi se hanno gomme bucate se hanno se hanno un finestino rotto queste cose qua quindi conformità tecniche sono queste qua praticamente abbiamo un po' di cose ma dal 28 aprile il territorio sono in veicoli in base quali vabbè scheda del veicolo ispezioni tecniche saranno queste qua quindi conformità del veicolo e abbiamo altre quattro segnalazioni di contrabandieri porca miseria eh insiste abbiamo un po' bacchicca un po' piena di bozze vabbè che cos'è questa ah possiamo oh bellissimo possiamo fare la pesa ai mezzi quindi qua quindi se non corrispondere non corrisponde al peso ce lo vanganelliamo sui denti quindi di peso ricordi che di segnalare ogni infrazione al rapporto ispezione quindi dobbiamo anche segnalare prego allora facciamo il primo camion venga venghino venghino vediamo quanto pesa sta camion dai ciao filì salve oggi sono cazzi da cagare signore perché oggi cambiano molte cose no perché scendo al veicolo c'è Eva mi scusi puoi risalire risalge scusi guarda puoi risalire è un errore mio risalga risalga cazzo sbagliato ho fatto scendere eh lo so è un po' una persona anziana mi dispiace pure mi dà documenti scusami caro ma secondo te che fa ma io mi ritengo sui documenti ma che cazzo allora signori ci sono molte nuove cose quindi vediamo intanto se corrisponde subito proprio facciamo subito 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 54 anni scadenza è valida non corrisponde attenzione ah si ho sbagliato però qua corrisponde vediamo se anche la il nome corrisponde qua corrisponde qua la targa vediamo se corrisponde del veicolo cazzo ce l'hai la targa mi scusi mw non corrisponde la targa carte circolazione non risulta 16 48 non corrisponde poi c'ha tutto rotto c'ha quindi c'ha fanali non funzionanti carrozzeria danneggiata quindi se c'ha più di tre cose danneggiate non può entrare già non può entrare perché il veicolo non risulta a lei poi c'ha tutto rotto quindi sei bocciato mi dispiace caro guarda qua la corsia che ha scappezzi vabbè vediamo un po' il carico cosa c'ha il carico c'ha sette sostanze infiammabili ok ok vediamo un po' se c'ha qualcosa di sospetto no ok e vediamo quanto pesa 37 10 sulla carta quando c'è scritto 42 40 quindi sballa signori mi dispiace ma il peso non corrisponde peso del veicolo numero di targa e del resto carta di circolazione tipo di veicolo signore la devo bocciare l'ingresso lo sa fammi controllare un po' dentro com'è t'apposto il peso va bene il peso va bene come va bene il peso scusami 37 10 mi dice come fa sebbene se qua mi dice 42 40 come il peso è giusto ragazzi 37 10 scusa il peso è giusto che senso il peso è giusto ah non deve essere superiore ah ok ok perfetto allora ok avevo capito male io io credevo che doveva essere preciso ok ok perfetto allora c'è ragione ok allora però la targa non corrisponde e c'ha 4 quindi lo dobbiamo bocciare mi dispiace non può entrare targa sul veicolo ah non deve essere superiore ok ok io credevo che invece doveva essere pari capito perfetto perfetto ecco perché ci siete voi qua mi date una mano no e che cazzo allora quindi facciamo la situazione quindi il carico corrisponde il carico confermato 7 ok sostanze inviammabili però la targa non corrisponde e io sinceramente non lo faccio passare quindi signore mi dispiace ma io la devo la devo rifiutare si si lo so la targa ragazzi lo so la targa non non corrisponde mi dispiace signore che devo fa no tranquilli barili ma tanto non lo faccio passare ragazzi non corrisponde alle specifiche standard comunque il collega prima o poi si fa mettere sotto comunque collega però c'è una fortuna pompa il collega perfetto vi ho fatto giusto vai avanti no sono tiktok user salve la cosa è più bella perché ora dobbiamo controllare tutto targa condizione del veicolo cioè mo la pesa del veicolo mi dispiace per lei allora vediamo un po' se corrisponde 20 e 30 quindi porta una toilette lavatrice cemento e sapone vabbè controlliamo un attimo 24 anni scadenza è valida vediamo se è valido anche questo allora corrisponde tutto ma dobbiamo un attimo qui alla bacheca se abbiamo qualche segnalamento sospetto autista che ieri non si è fermato all'espressione del confine targa dds 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 no non è il nostro uomo nazionale del regno di erkei no non è lui daniel vico aveva avuto i mancanti ed ho visto 43 quando è inizio autista mi sa 27 ok quindi non è del nostro uomo non manca nessun paraurti ok era giusto per controllare un po' vabbè sì controlliamo un attimo il carico ovviamente io eh io io controllo un attimo fuori qua una volta abbiamo trovato i soldi dentro al water una volta controlliamo comunque il collega non fa mai un cazzo comunque con lei però cioè va bene rimettiamo dentro sembra fumasiette il gioco si chiama contraband police Risa allora vediamo la bolla di carico con il corrisponde il peso del veicolo vediamo quando è ok ci siamo perfetto controlliamo controlliamo un attimo tutto il veicolo vediamo se è in perfette condizioni se può passare per la città eh sì un attimo grazie scenda è molto gentile non c'è niente ok ma per me può passare signore per me è tutto in regola quindi salga sul mezzo collega fuma e pasta falco quindi il signore non c'ha niente da dichiarare risulta tutto preciso e puntuato signore lei può andare quindi le do il consenso vada 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 nel paese buona permanenza arrivederci siamo calmi no si lo so lo so ma non c'è niente non c'è niente l'abbiamo controllato prego bello questo furgone hippie questo proprio attenzione non c'è un paraurti attenzione attenzione si un attimo giovane tu già perché mi dai documenti siamo calmi si falco grazie allora abbiamo una selezione di un paraurti mancante e quindi potrebbe essere anche questo attenzione quindi controlliamo la targa allora intanto vai portami tutto fuori stai zitto vai vai portami tutto fuori detto che mo controlliamo tutto qua quanta cazzo di roba porti dopo facciamo il peso dopo ragazzi dopo mo controlliamo un attimo allora controlliamo un attimo perché questo quanta roba c'ha 7 di mele 3 cemento 11 prodotti chimici 2 cucina gas 3 tolet 1 vediamo un po' se corrisponde 3 ecco c'ha prodotti chimici 4 invece c'era 2 cucina gas 3 tolet 1 e cemento 11 ok quindi non corrisponde solo ok controlliamo prima il carico no non vedo niente di particolare si si mo controllo tutto questo controllo anche tutto tutto mo controlliamo un attimo se cucina gas se c'è qualcosa dentro ma non vedo nessun segno particolare ma vabbè il carico sembra a posto già ma ne rimetti tutto a posto eh pariscio allora controlliamo la tappezzeria e tutto vediamo un po' se c'ha qualcosa che nasconde questo non lo so ragazzi mi puzza un po' questo ma non c'è un paraurti quindi mi fa pensare che potrebbe essere la persona segnalata però l'unica cosa che vedo che non c'è è il paraurti vabbè controlliamo intanto allora vediamo un po' se corrisponde posso lettra di vettura non corrisponde lettra di vettura non corrisponde quindi giaca non corrisponde e vabbè facciamo il peso scusi può tornare nel veicolo facciamo il peso del veicolo ma che ne so questo non fa mai niente il collega a destra è una cosa triste facciamo il peso 28 e 10 sta lì sta eh 28 e 10 sta lì 28 e 90 80 kg di meno però vabbè il prezzo c'è quindi c'è nel senso che posto non corrisponde ma la carta di circolazione io ti boccio mi dispiace caro ti boccio e non ti faccio entrare caro non ti faccio entrare quindi ti abbiamo detto tutto che non può entrare per me non può entrare non c'hai non c'hai non c'hai non c'hai via fuori eh mi dispiace caro arrivederci quando hai scoperto è il gioco ragazzi ho scoperto questo con un con un un accesso anticipato palco l'avevo provato in accesso anticipato il gioco l'abbia fatto giusto ragazzi vedi avanti il prossimo dai dai facciamo la pesa l'avevo scoperto così ma questo è bello ma sai quanti giochi devono uscire ancora molto belli pure buonasera buonasera sì ma un po' più alto spiega non ci arrivo solo ieri ho attraversato il confine mi hanno subito richiamato per lavoro di polizia vuol dire che è bravo lei la polizia allora vediamo un po' regno di herkin dds non è 43 anni vabbè il gioco si chiama contraband police allora controlliamo intanto l'età del 37 la nostra percezione è finita quindi dobbiamo farlo noi è valido 18 settembre 81 ok allora il nome Gikorovic eh non lo so Grigorievic Grigorievic ok lettera di vertuna valida il peso 62 6 vabbè vediamo un po' porta due maiali tre polli vediamo vediamo un po' verifichiamo verifichiamo salve 1 2 2 e 3 polli ok comunque il carico corrisponde su ps4 non so se c'è Jacopo non so se c'è allora facciamo la pesa siamo nella norma si a voglia controlliamo lo stato del veicolo un fanale rotto vi ricordo che se c'è tre parti delle macchine rotte lo dobbiamo rifiutare quindi un fanale funzionante non funziona la carrozzeria va in buono stato vabbè un camion che cazzo vuoi fa un altro fanale rotto adesso due il terzo coso rotto è fuori mettiamo una cosa buona vediamo se vediamo qualcosa di interessante salve salgo salgo non ti preoccupi faccio un controllo veloce questo volendo potrebbe pure passare però volendo ma non trovo niente di facciamo pure un controllino qua se com'è non sa mai no non trovo niente vabbè vabbè non c'è niente no se com'è può passare può passare può passare può passare vabbè signore salga sul veicolo prego prego ciao Falco alla prossima va bene vada eh domani Falco domani sera è tosta domani sera infatti sarò in ansia tutta la partita ok andiamo l'ultimo della giornata la cippetta allora dobbiamo abbiamo ancora quattro contrabandieri fuggiti e quindi che cazzo porta due padre questo salve giovane ciao caro si un attimo allora controlliamo la targa no non è questa qua lui dovrebbe venire al regno di erkei attenzione non servizio hanno ascoltato una conversazione che grazie a quale abbiamo attuto informazione di confezione su altro contrabandiere regno di erkei attenzione regno di erkei quindi abbiamo già una segnalazione quindi controlliamo zafar zafar umarov 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 ok così corrispondono quindi attenzione ragazzi questo lo dobbiamo bocciare perché viene da erkei quindi è un contrabandiere che dobbiamo fermare però controlliamo il carico due padre siamo calmi devo controllare faccio il mio lavoro allora controlliamo ah 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 denaro falso signori denaro falso ai 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 collega oh sa scappa sa scappa ma c'è la miseria sapevo sapevo che scappava sto criminale dai forza 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 si guarda cazzi portali mia dai andiamo 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 a questo criminale sa scappa ah 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 c'è raga ma poi la macchina non cammina ho cambiato il furgone apposta si fermi criminale oddio ma lo so che non si porta non si porta contraband police si chiama il gioco oh raga non si porta sta macchina poi si portava meglio il furgone donna si fermi criminale voi facciamo la manovra di Brad Pitt guarda la manovra Pitt si se ce la fa so catorcio e pezzini madonna come lo fa sbandare dai 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 veloci dietro dietro si fermi polizia ti devi stare fermo dai dai scendi scendi fermati fermati ho detto spegni il veicolo forza stichiari in arresto ma come lo ferma signori come lo ferma si ho spaccato un po' la macchina ma sto criminale ci facciamo a salire allora dobbiamo portare madonna tutta l'altra parte ok aspetta aspetta si un atti si sposti dai portiamo sto criminale in prigione no no 5M ci gioco come no 0 ci gioco gioco però non porto sempre 5M per la play non lo so Francesco se ci sta a dirti la verità ah si cazzo di i contrabandieri come sparano che siamo a fare la macchina stiamo a fermare tutti stiamo a fermare ma ma dove cazzo passo che cazzo mi hanno chiuso oh porca puttana ma come faccio a passare c'è una scorciatoia qua ti dico hanno fatto cascare l'albero non so se ci faccio passare qua eh si noi la giriamo così gli ostacoli signori teni con dovevano ho fatto cascare gli alberi che cazzo ti è guato ciao nessuno ok raga dobbiamo tornare alla nostra dobbiamo andare in prigione portare questo dobbiamo girare qua si tolga stai zitto ah lo posso tagliare eh vabbò ma c'ho sto criminale mi stavano a sparare sinceramente non sono sceso cioè non sono sceso madonna questa macchina non si porta dobbiamo puoi riparare la macchina ci costa pure no ho sbagliato strada no e qua basta se sbagli la strada non trovi più niente sposti vabbè siamo arrivati qua dovrebbe essere ecco la la prigione campo di lavoro signori il faraccio che gira è troppo bello collega io ho portato un fuggitivo qua grazie arrivederci si si c'ha ragione c'è la santa qua per girare si francesca contro ban police si mi fate mi fate uscire grazie molto gentile grazie mi stanno chiudendo i sportelli ok torniamo al nostro rossella non lo so quando dovrebbe costare il gioco sinceramente a me me l'hanno dato quindi per portarlo in anteprima quindi non lo so ma comunque non dovrebbe costare tanto su ps4 non lo so se c'è ps4 non lo so penso che sia uscito solo per versione pc per il momento ecco ti hanno risposto rossella su per giù una ventina di euro il gioco no 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 Ale non c'è non c'è magari però si portava meglio il fulgone la macchina pecca un pochettino non so perché collega giusto imposta macchina che me l'hanno sfasciata eh hanno un po' rotto ecco il finestrino ci hanno sparato collega fa una cosa giusta un po' la linea riparata bravo 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 ok io l'ho comprato ah l'hai comprato così in che senso hai comprato così allora vediamo un po' la pistola è carica si ok abbiamo tutto qua vabbè abbiamo fatto ok possiamo andare ottimo abbiamo 709 raga io direi di andare aggiornare a meno la nostra roulotte ciao Luca si chiama Contraband Police il gioco lo trovi su Steam o su Instant Gaming usando il mio link che c'è anche lo sconto allora ragazzi io direi di aggiornare la nostra roulotte perché ci dà più percezioni quindi abbiamo più punti di percezione si Ale e più ci dà la salute più salute quindi direi di aggiornare la nostra roulotte così a meno piano piano cominciamo a aggiornare un po' tutta la struttura qua che è un po' casca a pezzi sta struttura collega buonanotte quanto pesa un po' quanto pesa si metta qui si metta qui quanto pesa ottimo non abbiamo il consegno di water vabbè faccio una cosa sposta il carico non so dove l'hai spostato spero a me gli ho dato una pulita no ma vediamo ma l'ourlotte è questa eh ah abbiamo c'è una catapecchia ancora più catapecchia ah bo a me non è una casa quattro mura dai accende la luce mamma mia che casa di sissastrata però vabbò dormiamo il letto manco senza lenzuolo proprio i barboni più assoluti eh un po' di soldi ci spendiamo qua troppa monotensione comunque per i veicoli proprietà qua non va bene troppa monotensione qua tutti i soldi eh mi tocca veramente rubare per andare avanti sto gioco cioè siamo pure sotto i soldi scusa io voglio vedere una cosa ma non abbiamo livellato scusa come si faceva a vedere ah è vero dobbiamo andare a posare il denaro falso dobbiamo andare a posare il denaro falso che avevamo sequestrato non so se lo possiamo possiamo rivendere ma non penso ok dovremmo anche svuotare il magazzino che è pieno di verità qua che ci sta ancora questo salve quello è proprio spegnere qua si paga la luce però eh scusi che cazzo è qua pago io si può giocare a GTA rp a sette anni ale no sette anni un po' no prego avanti il prossimo ragazzi abbiamo abbiamo tolto un pezzo una qua quindi abbiamo ancora questi tre contrabbandieri salve grande sergent eh mi dai documenti eh lei è molto gentile già perché è troppo gentile mi puzza abbiamo un po' la targa no non sei non sei uno dei sospettati parolute mancanti è da 43 anni quindi vediamo 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 allora la quale si può chiudere che è successo torna all'ufficio che è successo ma quando chiamano così qualcosa di grave si prontolo ok raga dobbiamo andare dobbiamo andare in altra parte adesso collega ci pensa lei pensa lei qui eh camicia dobbiamo andare ci sta aspettando il comandante è successo qualcosa di grave prego prego innaccia collega io prendo questa buongiorno Pasqua ok andiamo ragazzi si sta aspettando il comandante andiamo a vedere che è successo la strada ok parla con il sergente vediamo che cosa è successo adesso c'è santa sta macchina non si porta dove deve andare quindi possiamo andare di qua ok sperando che non ci sparano addosso il gioco si chiama Contraband Police allora dobbiamo andare tutto dritto qua eh ma dovrebbe bene la mappa che non so dove c'è sono macchini o no eh si qua usano un po' le macchine vecchiotte ok dove andare di qua ok stiamo andando giusto si si usano un po' le macchie vecchiotte ce l'hai per PS4 quindi ce l'hai anche per console allora io non sapevo che c'era per console questo gioco spero se c'era la versione PC anni 60 eh si beh il tunnel non ce l'ho mai passato cioè si ho Contraband Police Antonio ok tutto dritto ragazzi tutto dritto siamo arrivati vediamo che vuole essere gente qua ci ha fatto arrivare l'altra parte della città parla con il sergente dove sta piano lascio qua la macchina dove sta il sergente sergente ciao Daniele ciao illuminazione ciao ah eccolo lì sergente bello bel posticino che è una scuola che cos'è no birre che è una mezzo pub in terza persona si mette col tasto V Riccardo dentro la macchina salve sergente dimmi tutto c'è quindi praticamente io devo interrogare i sospetti perquisisci il colpo e trova l'arma del delitto ma che cazzo faccio l'investigatore scusi sergente io sono un poliziotto di frontiera cioè ma che cazzo faccio il che faccio il detective Conan vabbò il detective Conan ah ok vabbè ragazzi vabbè ci tocca fare il detective Conan ma dove sta sto corpo scusami è dentro ma è dentro qua penso allora è dentro qui ok ok ma è qua il corpo dove sta permesso dove sta il corpo oh e a me ce la facciamo aprir sta cazzi porto salve dove sta il corpo del sospettato ma è sicuro che è qua cioè dovrebbe essere qua se state qua armati dovrebbe essere qua dietro veniva a controllare raga io non lo so dove cazzo cioè mica me lo segna dove sta l'ho trovato qua dietro che stava che stava a fare stava a pisciare che stava a fare ah qua dietro stava ah eccolo salve oh porca miseria collega che è successo allora dica cioè guarda che cazzo domanda guarda che cosa mi ha risposto sì c'è l'ho una torcia UV però cioè io non faccio il detective cioè cioè ma avete capito che cazzo che cazzo che cazzo mi ha detto o no è sdraiato da ore per terra ma cazzo è morto ha perso non ci sono andato sì non lo so vabbè lasciamo lasciamo perdere allora abbiamo ispezione del corpo un orologio da polso cioè non ha senso sergente è sdraiato qui ma che cazzo significa vabbè comunque c'è solo un ok quindi la raggia UV abbiamo delle impronte ma che ficata seguiamo queste impronte era da piscià seguiamo un po' seguiamo queste impronte ah va io direi di metterci il manganello per sicurezza ah mettiamoci la pistola ce l'abbiamo è carica sì cioè ci tocca fare porca puttana nelle tette Conan cioè dove cazzo è andato questo ucciso sta perso cazzo è andato è scappato nei boschi ma ci spara ci trivella questo eccolo abbiamo trovato l'arma del delitto interroga i sospetti quindi diciamo che il sospettato è scappato qua ha lasciato l'arma del delitto qua poi non so dove si è dileguato però il sospettato cioè non ci sono altri impronte ovviamente ma che cazzo ne sto domando vabbè interroga i i sospettati vabbè interroga i sospettati questi che stanno qua dentro penso vabbè poi ci tocca fare tutto hanno fatto un cazzo praticamente no vero ah aspetta a me tutto io lo fa va bene perché mi sospetti no ma cazzo si entra qua allora avete visto qualcosa allora ha detto di parlare con Tumir che si scomporta proprio anche lui ha detto che l'orologio che abbiamo trovato al corpo ha detto che lui lo voleva ammazzare per ripendersi il suo orologio non lo so qua un po' la cosa la questione senti ciò tu stiamo troppo tranquillo qua vengono chiamate vabbè senti io ti interrogo a te che tu c'è un po' non lo so vabbè qua tutti c'hanno un alibi praticamente chi quello chi l'altro c'è un po' è un po' a te pio fusta vediamo un po' io vado con il raggio UV perché chi ha ucciso dovrebbe avere il sangue no a meno addosso qualcosa vabbè dobbiamo capire chi chi è per me è questo proviamo salve giovane c'è un po' mi ha ucciso che aveva ucciso scusa brazil perché dicono che l'ho ucciso lei sì ho capito ma io tutti quindi che devo fa ho giocato tutti i testimoni quindi mica ce ne stanno altri fammi vedere va che sono altri altri testimoni controlliamo un po' perché qua si sta rendendo più difficile la cosa qual'è eeeh vabbè scusami vabbè ragazzi non lo so io ho interrogato tutti i sospettati ma cioè non lo so non ho capito chi l'ha ucciso veramente sinceramente vabbè proviamo a riparlare con il sorgente con il sergente qua sorgente senti è stato trovato un addetto di pulizia sul retro dell'edificio e infatti l'avevano detto che era uno delle pulizie sorgente che è stato trovato nel retro sì ma dove sta questo tre pulizie chi è che fa le pulizie a sto cazzo di posto cioè io ho interrogato tutti i signori ma eeeh ma qua cosa a cosa cosa dà ho ma la c'è la la l'arga la l'arga la l'arga la Quindi Shave che la potrebbe uccidere Quindi Shave è quel signore che sta lì Eh lo so che sono sei sospettati Sono questi i sospettati Questi che stanno qua dentro Eh ma non ho capito Ne manca uno Ma vediamo dove sta quello là Vediamo un po' raga Dove cazzo sta lo cusso scusami Scusa dove sta Cioè ne manca uno Dove sta scusami L'arma è dritta L'abbiamo trovata qua Il poliziotto No che c'è andrà il poliziotto ragazzi Non penso sia Cioè ce ne manca uno Ma dove cazzo sta In quelle porte non può entrare Dove l'ha detto le polizie Non lo so raga No ci proviamo No ci proviamo Non ci ho provato di verità Eh questo io Qui non ci posso parlare Vedi Per me è il cipolla Quindi dovrebbe essere Secondo me Fai un po' Qua ci sono delle porte Ma Eccolo Eh ci mancava uno Parla con il sorgente Ok Vediamo cosa ci dice il sorgente Ci sento la voce lui Sorgente Allora Lasciamo andare Allora Lasciamo andare Sono innocenti No l'ha detto le polizie Non so se è innocente Lasciamo andare il Petroski Il barista Che c'entra un cazzo Secondo me Induite il luogo dell'evento Nell'area del giardino Induite il Individo il luogo dell'evento Nell'area del giardino Omicidio misterioso Questa Vabbè Controlliamo un attimo Ottimo l'impronte Effettivamente È un piedepic C'è Tipo Tipo Uno scarpone Individo l'area Individo il luogo dell'evento Nell'area del giardino Ma che cazzo mi fanno fare Il detective Conan Mi fanno fare Dai Qua non c'è Un cazzo Non c'è Boh Vabbè Individo il luogo dell'evento Nell'area del giardino Non capisco che cazzo vuole Però vabbè Allora fammi vedere che scarpe portano questi Però vedi Portano quasi tutti le stesse scarpe Potrebbe Non è facile No Ho scarpetato Tennis Non lo so Sul coltello Non lo so Se c'è l'impronta Vediamo la verità Non lo posso manco ispezionare Cioè Non è che ci mi fa vedere Che c'è un'impronta Che tipo Che fa vedere Cioè Non lo so Perché questa è la porta che dà sul retro Però Vabbè Individo il luogo Il lungo Il luogo Scusa Sergio Mi posso chiedere una cosa Ma Scusate Sergio Oba reto estio Zamietni Fundra Umbraku A c'povrotte I budno My Controli Eto zona Madre Insidia Saju Podzrymnik Ad Dao Ntaiet Eto Trasum Raat Csapra Sjem Tropsaya A c'povrotte Meno Nivizia Wyhodi Eto Vy Pozwolite Sì Ho capito Allora Con questi Non ci possiamo Sì sì Non ci possiamo Stavo un attimo Riflett Ragazzi Due secondi Perché Un attimo Per vedere Un po' Il gabinetto Vediamo un po' Se c'è qualcosa qua Ci hanno pisciato Cagato Vai Vai Dentro Il gabinetto Che ci sta dentro Il gabinetto C'è Non capisco Cosa vuoi Che io trovi Qua C'è Non Qualche indizio Qua vicino Non lo so Hanno fatto Che cazzo Ne so Cioè Non capisco Cosa lui vuole Sinceramente Perché io Ci ho già giocato E che ci sta Dentro Il gabinetto Eh non c'è Niente Dal gabinetto Caro Cioè O dietro Il gabinetto Non c'è niente C'è solo Delle impronte Ma le impronte Ce le abbiamo Fatti Ah Dove è iniziata La festa Eh Non Allora Dove andare Di là Perché qua Non penso La festa Stata qua Quindi dobbiamo vedere Dove è iniziata la festa Ma non so Se è iniziata qua Sinceramente Togliamo un po' Non lo so No come non fa più live Lo apri Qua è No Boh Sinceramente Ragazzi Non lo so Che cosa Cazzo Vuole Da me sto gioco Mo Cioè Non capisco Che Che cosa vuoi Che trovi Cioè Nel senso Ma dove Cioè Il giardino È tutto questo Cioè Se non è qua Non di qua Dove cazzo Scusami Cioè Non capisco Sta cosa Ah Eccolo Qua forse Hanno fatto la festa Interrogo i sospettati Aspetta Ok ok Ho trovato Allora Allora Vediamo se Troviamo qualcosa Di utile Che ci possiamo Provare a giocare Nostro favore Ma non vedo niente Parchetto di Malboro Vabbè Ah boh ma io Daniele Devo sempre Devo spippolare un po' Ok Aspera che mi stanno a chiamare il telefono Un attimo Grazie Ok raga scusatemi Non ho chiamato il telefono Ok allora Interroghiamo i sospettati Oleg è andato Oleg è andato Oleg è andato Ma perché non mi fa vedere il commento scusa quello che sto dicendo Cazzo ne so che mi sta a dire Non ho capito Cioè non ho potuto leggere che cosa mi ha detto Vabbè Con il gioco ogni tanto Cazzo è quello che abbiamo lasciato andare Cazzo è quello che abbiamo lasciato andare prima Ah no eccolo qua E' lui Timor Ma non lo so Potrebbe essere questo Il nostro sospettato numero uno Forse Sì sono russi Perquisisci il magazzino ragazzi Allora 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 il magazzino Vediamo quale è Quindi sono rimasti due sospettati Due c2 che Hanno ucciso questo Vabbè Perquisiamo il magazzino Dovrebbe essere qua il magazzino Quindi Cioè perché erano gli unici che avevano L'accesso Cioè aveva l'accesso qua Cioè Quindi Cioè non è che Io vado sempre con le cose V Perché per vedere se Troviamo qualcosa di utile Atti segreti addirittura Troviamo qualcosa di interessante No Secondo il suo ordine Ho lavorato con Olgen E conferiti i suoi legami Con il che informatore Sarà ucciso oggi stesso Lunga vita Libero Tumir Ai 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 Abbiamo trovato L'assassino ragazzi Questa lettera l'ho in colpa Buonasera Angelica Attenzione Poi intanto Continuiamo perquisizione Se troviamo qualcos'altro Ecco i stivali Che corrispondono Se 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 Ok ragazzi Arrestiamo Tumir Eh lo sapevo che c'entrava Non mi è mai Non mi è mai Piaciuto questo Va bene Va bene Eh lo sapevo che c'entrava Spazzo tutti Manganello tutti Un atto di ispirazione Facciamo troppo bene il nostro lavoro Anche grazie al vostro aiuto Facciamo troppo bene il nostro lavoro Capito ci volevo ammazzare Cioè collega lì non ha fatto niente Non ci credo Cioè sto povertizio ancora qui Non ci credo Non ci credo E mi dà i documenti Cioè guarda Collega però io Cioè io non ho parole Non ho parole Veramente Cioè Quante cose dobbiamo fare noi Targa ok 43 anni l'autista Vediamo un po' Quanti anni c'ha 41 Ok Non corrisponde Attenzione Cioè il passaporto scaduto Posso Visto l'ingresso Quindi c'ha Visto l'ingresso Allora già perché questo Io già le posso negare L'ingresso Però Controlliamo ancora Corrisponde A meno questo Vabbè 990 kg Pesa Madonna che cazzo porti 990 kg Ok siamo nella norma E vabbè Vediamo un po' Cosa porta Cioè comunque Collega è inutile Collega è inutile Collega è inutile Sì Madre 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 Ok Vabbè Sei in perfetto stato Il mezzo Però non passa Perché c'ha tutto scaduto Ok Riva da Torna al veicolo Ah c'ha un fanale Rotto però No Quella è la retro Ok ok Perfetto Perfetto E ragazzi Questo C'ha Non va La scadenza Cioè non passa Non passa proprio Cioè mi dispiace Anche se c'ha però No è pure scaduto Il visto Mi sa vero Il visto in questo è valido Però c'ha Il passaporto scaduto E non corrisponde Anche la carta c'è Quindi lo Non lo facciamo passare Mi dispiace Caro Bocciato Matteo si chiama Contrabband police Il gioco Noi facciamo tutti Contrabbandi Facciamo tutto Siamo a bot Spariamo Cioè comunque Il collega nostro Non fa veramente Un cazzo C'era Tutto a noi Ci lascia fare Vada Vada Comunque il collega Unissimo gioco Lei muore Però eh Sì per il pc Prego avanti il prossimo Ok ragazzi Facciamo le ultime due auto Visto che abbiamo fatto Mille mille cose Cioè No no Non è da telefono Matteo Da pc O console No non è da telefono Salve Pasquale Dai Com'è Sì sì Arrivalo Allora Targa 6RG 43 anni Aspetta Abbiamo anche una cosa Ah Paolo ultimancante Attenzione Paraurte Mancante Potrebbe essere lui Attenzione Potrebbe essere il contrabbandiere Che cerchiamo Pollo Due bagagli Scusi Il polli Dove li hai messi No non so Curioso di capire Dove stanno i polli Dove c'erano i polli Scusa No non so Un attimo curioso Di capire Dove c'è Ah Il bagagliaio Ok Allora controlliamo Unione Allora Nome Corrisponde Data di scadenza Corrisponde Quanti anni C'hai 43 Attenzione Attenzione Ragazzi Attenzione Attenzione Valido Carta di circolazione Valido Lettore del veicolo Attenzione ragazzi Ma corrisponde A due Nostre note 43 anni E parolurti mancante Attenzione Potrebbe essere lui Attenzione Quindi Lo facciamo scendere Dal veicolo Scendo dal veicolo Gentilmente Prego 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 Non so se c'è PPS5 Vedi La verità Controlliamo bene Questo veicolo Ragazzi Perché Potrebbe essere Il sospettato Che cerchiamo Va Vabbè Controlliamo i bagagliai Tutto C'è che Vai Prego Prego Controlliamo Ok Sì sì Controlliamo un attimo Il carico Io devo controllare Sta borsa Non me la fa aprire Però Non c'è il simbolo No Però c'ha 43 anni E c'ha Un paraurti Quindi potrebbe essere Lui Che anche se non porta niente Però è segnalato Quindi Quindi non lo so Sì c'è C'era il simbolo Dove c'è il simbolo Ma che sei Di dove è il simbolo Dove stava il simbolo Non me lo so perso io No ragazzi No ragazzi Ci deve stare il simbolo Ci deve stare il simbolo Per poter rompere Per poter rompere qualcosa Il simbolo non ce l'ha No la gallina ce l'ha Non ci credo Ragazzi la gallina C'era la gallina Scusi un attimo Non mi controlla la gallina Ma è finta sta gallina E come la controlla La devo ammazzare Scusi gallina Non volevo Ah con il manganello Ah ma è finta Ragazzi è finta Ma ti rendi conto Ragazzi la gallina è finta Ma che cazzo si inventano Ma che cazzo Ragazzi Cioè ragazzi Non ci ho fatto caso Che era finta Ma ti rendi conto Qua siamo alla follia Comunque Signore la dichiaria in arresto Per spaccio di galline finte Cioè ragazzi Ma qua siamo arrivati alla follia Cioè Cioè persino Galline finte Beh ragazzi Siamo arrivati alla follia Cos'è il lato guidatore? No ma non c'è niente ragazzi Era solo la Ah attenzione Uragano Ma cazzo ho fatto non vederlo Proiettili signori Proiettili Bravi Vedi Vedi che mi aiutate Che 4, 6, 8 occhi È meglio di 2 ragazzi Ho sempre detto Ma infatti Io ragazzi Non ci ho fatto caso Cioè galline finte Mamma mia Questo è proprio un criminale Tutti gli effetti Ok giovane La capota Pure la capota Ma vestiti Pure la capota Ma dai Ma questo è proprio un criminalone Che cazzo aveva? Armi? Grandissimi ragazzi Grazie per l'aiuto Ragazzi Grazie per l'aiuto Mi sono perso 3 cose Non soltanto la gallina Vai pulisci Cosa Mi sono alleato Tutta la vita Queste olimpiadi Olimpiadi? Ok Allora Vediamo chi sei 30 anni Valido Ok Questo è tutto valido Il signore Controlliamo il cari Il peso Il veicolo 15 e 20 Sopra la norma Vabbè Vediamo una controllata generale Disegniamo gli errori Che c'ha Quindi Caraparticare danaggiata Però aspettate Io voglio vedere Se ce l'ha tolto Questo però La targa DTS 43 Ma la targa Non ce l'ha Scusi? Ok Non è Non è lui Però Controlliamo Ovviamente Allora Vediamo un po' C'hai tutto Fanali va bene Controlliamo Un po' random La cosa Ok Mangula La corsia C'è Ristrutta Fratello Però C'è due parti danneggiate La corseria I paraurti Mancano Quindi c'è due paraurti Mancanti Finestrino rotto Finestrino rotto Eh Questo ragazzi Non lo dovrei far entrare Perché Vi dico Ispezione tecnica Se ha più di Praticamente Vedi Se ha ingresso Vi dico Con più di Tre Non conformità Tecniche Quindi Lui Non c'ha Eh Non c'ha La conformità Quindi in teoria Non lo potrei Fa passare Scusi Può scendere dal veicolo Un attimo Faccio controlli più Approfonditi In teoria Non può passare Ragazzi C'ha Troppe cose rotte E' andato A queste pezzerie Di merda Dai tranquillo Battistrada Sì sì Ma infatti Per le gomme Non è che sta molto Messa bene Questa macchina Effettivamente Nonna Sto cane Che vai Vabbè No Gomme bucate Vabbè Direi Signore Non può entrare Torni al veicolo E lo Torni al veicolo Però muoviti Eh raga Mi scusate Per il cane Gabbaia Allora E Ragazzi Non possiamo farlo passare Purtroppo Per la legge Delle olimpiadi Che ci sta Non lo possiamo far passare Quindi Andate in casa No no È il cane del vicino Ragazzi Prego Arrivederci Facciamo l'ultimo Eh ma c'è San ancora Altre due Attenzione Qui abbiamo sbagliato Signori Qui abbiamo sbagliato Dovevo farla entrare Però vabbè Allora il gioco Deve chiarire meglio Le sue Le sue richieste Perché Se mi ci Con tre conformità Tecniche Non entri Cioè Vabbè Comunque Salve Mi dà Documenti Eh sì Vabbò Vabbè Ciao Forza Int Mi dai documenti Niente Allora Targa Questa è No Non è segnato Ok Controlliamo un po' Chi è questa persona Ok 39 È valido Aia Passaporto scaduto Eh si sta stancando Il giovane Qua controllare Corrisponde Vediamo un po' Se corrisponde Pure questo Posso Lettri vettura Non è Ok Allora Nome data Quindi Questo già ragazzi Non potrebbe passare La targa del veicolo Zero Vediamo un po' Se corrisponde La targa 075 00 Ok La targa Corrisponde Controlliamo il peso Del veicolo 23 9 Ci siamo Nella norma Allora Cosa porta Quattro barili petrolio E due pesce Ovviamente Li controlliamo E poi li controlliamo Bene anche Qua vedo più di due barili Però giovane Qua c'è qualcosa Che non va Vedo un po' Roba che è in più Qua Scusi Vabbè La controlliamo meglio Ragazzi Controlliamo meglio Con la calzo Dai No Non sono sospetti Però ci sono più Più barili Più barili Vabbè Vabbè Dai Rimetti dentro Ci sono più barili Allora Quindi Controlliamo bene C'ha Un barile in più Di pesce Alla fine C'ha un barile in più Di pesce Quindi Vabbè Però l'abbiamo controllato Quindi il carico Va bene Dai Ci siamo Che il carico Targa C'è Tipo di veicolo Lettura del veicolo La lettura del veicolo Mi sa che non corrispondeva Quindi Non corrisponde Lettura del veicolo Non corrispondere Perché ci sta uno in più Di cassa Quindi Non può passare Poi c'ha Un fanale rotto Proprio Sino Lei sta Proprio nei guai Eh ragazzi C'ha un po' di cose Che Non so se può passare Questo però Manca uno specchietto Specchietti Non manca Specchietti Mancanti Uno Finestrini Come stanno No ma il carico Non corrisponde Quindi non passa Però E' giusto Per dargli più Va bene Signore Qua Lei non passa Quindi Che le devo dire Tenga ma non passa Mi scusi Rifiutato Eh perché Non corrisponde niente C'è Che ti devo dire Giovane fratello Eh non mi spiace Dai facciamo l'ultimo Che qua C'è una manna a dormire Ok facciamo l'ultimo Vai Si è stato promosso Eeeh Promosso signori A che è che è stato Promosso Non me l'ha detto Vabbè Bella mucca Salve Allora Due mucche Porta Sicuro Non è che si è sbagliato Non è che una Questa fa per due Fa Quindi già Lettera di vettura È sbagliato Controlliamo il nome Se ce la facciamo ancora Se ce la fa Però la lettera di vettura È sbagliata Quindi mettiamo Lettera di vettura E cominciamo già A sbucciare le cose Qua eh La targa Corrisponde al veicolo 4RSE Qua 68 Si Controlliamo il peso Del veicolo Ci siamo Nella norma Controlliamo il carico Quindi Non corrisponde Abbiamo solo una mucca Qui quindi Non pa' pene Signore Non pa' pene Ve lo dico Non pa' pene Non pa' pene Non pa' pene Signore Non pa' pene E Devo controllare Devo controllare Vabbè Non c'è un cazzo Questo Dai Va bene Va bene Allora I specchietti Ce l'ha tutte e due Va bene No Xbox no Può salire Allora Controlliamo Se corrisponde Corrisponde Date di scadenza Il 5 aprile Di 81 Quindi questa è scaduta Carta del cittadino È scaduta Quindi Carta del cittadino Però non me lo fa Allora Peso il veicolo Vabbè raga Questo mai potrebbe Passare pure Però Vabbè C'ha una mucca in più Ci risulta Però Alla fine Potrebbe passare Sì Alla fine Dai Ci sta Ci sta Vabbè signore Passa Va bene Arrivederci No ma le gomme Raga Non ci sta niente Cioè Non c'è niente Raga Sennò me Me l'aveva segnato Sbagliato Vabbè Non fa niente Raga Ci sta Ci sta Non fa niente Dopo ce la dormiva Ah beh Alla fine Due controlli a raggi Ci può stare Dai Ci può stare Alla fine No ma le gomme Non c'era niente Non c'è Angelica Non c'era niente Ecco perché Non c'era Non mi segnava niente Vabbè Ci abbiamo Nuova cosa Siamo stati promossi Ragazzi Quindi Tanta roba Io raga Tornerei Al menu principale Quindi tanto salva da solo Raga Che vi dire Grazie a tutti Siamo stati in tanti sfino Ci abbiamo toccato quota 170-180 Qui sopra Siamo rimasti più di 40 persone Qui raga Quindi grazie mille Veramente Per il supporto Chi si è iscritto Per chi ha anche donato le rose Grazie mille Raga Grazie mille Che avete partito con me Che avete dei consigli Continuate così Perché raga Nel tanto posso sbagliare Nel tanto un po' di cacciara Si commette Mi hanno detto di sì Luigi Che c'è anche per console Io non lo sapevo Qualcuno in chat Te abbiamo detto